Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme la crostata alle fragole. Gli ingredienti che ci servono sono della pasta frolla, crema pasticcera, delle fragole fresche, del preparato per gelatina, un pentolino con 250 ml di acqua e 3 cucchiai di zucchero. Per prima cosa stendiamo sulla carta da forno la nostra pasta frolla, prima con le mani e poi aiutandoci con il mattarello. La stendiamo bene cercando di creare uno strato sottile. L'andiamo quindi a posizionare in una tortiera. Già abbiamo steso la nostra pasta, adesso la andiamo a forare con una forchetta, per bene. Riscaldiamo il forno a 180 gradi e la inforniamo per circa 20-25 minuti. La base per la nostra crostata è pronta, adesso la lasciamo raffreddare per almeno una mezz'oretta. La base della nostra crostata è pronta, possiamo quindi mettere la crema pasticcera sopra. Possiamo quindi incominciare a posizionare le fragole. E siamo ora a preparare la gelatina. Mettiamo in un pentolino 250 ml di acqua con due cucchiaini di zucchero. Il nostro preparato è il nostro preparato per gelatina. Mescoliamo bene. Continuiamo a mescolare. La nostra gelatina è pronta, spegniamo quindi il fuoco e la lasciamo raffreddare per circa due minuti, mescolando ogni tanto. La gelatina è pronta, quindi la andremo a mettere sulla nostra torta aiutandoci con un cucchiaio. Ecco il risultato finale. La nostra magnifica torta è pronta, alla prossima ricetta, ciao a tutti!